Benvenuti a tutti, benvenuti ai presenti, agli studenti delle scuole superiori e a quelli universitari. Siamo molto felici di avervi qui oggi. Un benvenuto doveroso ai relatori che sono qui, a cui diamo il benvenuto. Li ringraziamo per essere qui con noi oggi e per la loro disponibilità. Diamo anche un particolare benvenuto a Daniele Santi, responsabile della campagna Senz'Atomica e rappresentante dell'Istituto Buddhista Italiano Soka Kakai. Grazie per la sua disponibilità. Doverosi ringraziamenti anche al forum degli allievi che ci ha permesso di essere qui oggi e alla Scuola Normale Superiore per aver fornito questa location esteticamente piacevole. Vorrei spendere due parole sulla campagna che in qualche modo rappresenta la cornice all'interno della quale si colloca l'incontro di oggi e all'interno della quale si è collocato anche l'incontro del primo dicembre 2011 che si è tenuto in questa stessa sala e di cui poi si parlerà più articolatamente poco tra poco. È una campagna internazionale, la campagna Senz'Atomica, una campagna che si configura come un'azione dei cittadini comuni contro gli armamenti nucleari, contro l'utilizzo ma non soltanto contro l'utilizzo ma anche contro il principio della deterrenza. In particolare vorrei sottolineare tre obiettivi che ritengo interessanti di questa campagna. Il primo è l'informazione, ovvero l'importanza di informare i cittadini comuni sugli inganni e i paradossi della sicurezza fondata sulle armi nucleari. Il secondo punto è lo sviluppo di un movimento di diplomazia parallela, ovvero un movimento che non vada a incidere soltanto nell'ambito che è quello delle grandi istituzioni internazionali, ma che possa mettere radici nel contesto sociale in cui viviamo, quindi a livello locale, per poter in primo luogo trasformare l'ambiente localmente e a questo punto agire mediante l'azione locale anche sui meccanismi internazionali, che è una cosa molto importante di questa campagna. Quindi far sì che i comuni cittadini si mettano in moto rivendicando il diritto ad un mondo libero dalle armi nucleari. Infine un obiettivo molto concreto di questa campagna che vorrei sottolineare con altrettanta forza è la promozione di una convenzione internazionale sulle armi nucleari entro il 2015. Questa è una campagna internazionale che non coinvolge soltanto l'Italia, ma anche molti altri paesi del mondo. Tra l'altro nel 2011 questa campagna è stata presentata presso la Camera dei Deputati. Nel 2012 il Comune di Pisa ha aderito a questa campagna. Vediamo quindi che oltre ai cittadini comuni si muovono anche istituzioni, organizzazioni più ampie, proprio perché questo stimolo che proviene dal basso consente di agire poi anche a un livello più alto. Questo sempre in virtù dei principi che ispirano questa campagna. La campagna di cui stiamo parlando è sostenuta, attivamente sostenuta dall'Istituto buddista Soka Kakkai. Ad essa hanno aderito diverse associazioni che si occupano delle problematiche legate al disarmo nucleare. Fra queste vorrei citare alcune organizzazioni fra le più importanti, non sarà un elenco esaustivo, ma vorrei citare le più importanti. Per esempio l'Associazione dei Parlamentari per la non proliferazione nucleare e per il disarmo, l'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo, il Summit dei Premi Nobel per la Pace, un'altra importante organizzazione, Pagwash, l'Unione Scienziati per il Disarmo e all'interno di questa cornice sicuramente molto importanti sono le mostre organizzate appunto dalla Soka Kakkai nel nostro paese, una mostra itinerante legata ai temi della campagna, tesa proprio alla sensibilizzazione delle persone sui temi della campagna, che si è tenuta in diverse città, a Firenze è stata inaugurata nel marzo del 2011, a Pesaro nel febbraio del 2012 e per chi volesse andare a Milano a fare una passeggiata a Milano, l'8 marzo prossimo, quindi l'8 marzo di quest'anno, si aprirà a Milano la mostra senza atomica. Vi consiglio di andarla a vedere perché è sicuramente un'esperienza veramente importante per chiunque. E a questo punto lascio la parola a Costanza. Allora io volevo ricordare e riallacciare il discorso di oggi a quello del 2011. A dicembre del 2011, appunto come diceva Tiziano, si è tenuta un'iniziativa, un incontro, sempre legato alla campagna senza atomica, che aveva come titolo Alle radici del disarmo, Hiroshima e Nagasaki tra storia e memoria. I due interventi, i due relatori, Riccardo Rosati e Annalita Curcio, hanno cercato di approfondire e recuperare i contenuti sia storici che visivi relativi ai bombardamenti del 1945. In particolare il primo intervento di Riccardo Rosati era centrato sugli aspetti, sul confronto, sulla situazione politica e sociale del Giappone alle porte della seconda guerra mondiale. Quindi cercava di spiegare le dinamiche sociali e istituzionali in Giappone tra il periodo degli anni 20 e degli anni 30, quindi la fase militarista, le premesse della fase militarista. E questo per quale motivo? Perché cercavamo di intuire quale fosse stata poi la narrazione che gli stessi giapponesi avevano fatto a se stessi dell'esperienza del bombardamento, che ci sembrava un punto chiave per tornare a pensare agli episodi del bombardamento. Il secondo intervento invece di Annalita Curcio era legato a una ricerca che si è conclusa in un suo libro che si intitola Le icone di Hiroshima e era invece molto più puntato sugli aspetti visivi, quindi su come è stata visivamente comunicata l'esperienza del bombardamento. e io vi riporto, se ci riesco, perché non mi pare di riuscirci, alcune immagini che la Curcio ci aveva mostrato, però non succede niente. Ah, ok. Ecco, questo era il punto di partenza del suo discorso, cioè era legato al fatto che l'America aveva scelto l'immagine come immagine di propaganda della propria politica militare e aveva narrato quell'esperienza attraverso questa immagine, cioè un'immagine che era tutta concentrata sulla potenza e che nascondeva, non mostrava in maniera evidente, quelli che erano invece le conseguenze devastanti, drammatiche dell'utilizzo della bomba. Quindi era un'immagine dalla quale non si può prescindere per ricordare l'esperienza di quei bombardamenti. In realtà questa immagine, che è stata praticamente l'unica, insieme a pochissime altre, che hanno circolato immediatamente dopo gli episodi del 1945, non era l'unica immagine in possesso dei cineoperatori, dei giornali, della stampa. In realtà tante altre immagini sono state raccolte immediatamente dopo i bombardamenti dei giornalisti, ma raccontavano il disastro, raccontavano la devastazione, la distruzione delle intere città e raccontavano i danni alle persone. Io ho scelto soltanto pochissime delle immagini molto forti che la Curcio ci ha mostrato. E quindi ripartire da questo momento serve, dal momento originario, quello del bombardamento, serve a noi per capire quali sono poi le dinamiche che hanno determinato la politica internazionale basata sulla deterrenza. Ecco, questo era il motivo per cui ripartiamo da queste immagini. Infatti io mi vorrei riallacciare appunto a quanto diceva Costanza sull'ultimo incontro, proprio per dire che il bombardamento su Hiroshima e Nagasaki rappresenta un sigillo di sangue posto sulla carne del popolo giapponese e al tempo stesso rappresenta un sigillo di politica internazionale nella misura in cui consente agli Stati Uniti d'America di in qualche modo dimostrare nell'area appunto del Pacifico il suo potere rispetto alla Russia, rispetto a tutti gli stati vicini. E noi proprio da qui vogliamo ripartire. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, arrivare a capire come queste armi, che durante il periodo della Guerra Fredda hanno avuto la funzione di deterrente e quindi hanno scatenato anche da un punto di vista di opinione pubblica un terrore diffuso, non soltanto all'estero ma anche in Italia. Se chiediamo ai nostri parenti cosa ricordano degli anni Sessanta, della crisi di Cuba, sicuramente ci racconteranno di un grande terrore, un terrore che serpeggiava in larghe fasce della popolazione. E poi arriviamo ad oggi. Come mai oggi questo terrore non è più presente? La domanda che ci siamo posti, la domanda che ci ha portato a questo incontro di oggi, a interrogarci sullo sviluppo della Guerra Fredda in relazione al presente, è una domanda che riguarda la presenza di armamenti nucleari durante la Guerra Fredda, la presenza di armamenti nucleari oggi, per capire quali sono le differenze dal punto di vista strategico, geopolitico, tecnologico, ma la domanda profonda che ci siamo posti è questa. Come è possibile che oggi, pur presente come principio la deterrenza, perché la deterrenza è un principio di sicurezza che ancora esiste, tant'è vero che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è costituito da paesi che detengono questo potere, il potere proprio della deterrenza nucleare, come mai, pur essendoci ancora queste armi, che non sono state del tutto smantellate, come mai pur essendoci ancora questi arsenali, noi oggi non abbiamo paura? Come mai è scomparso questo terrore? Ecco, noi vorremmo rispondere a queste domande e capire come sono state rifunzionalizzate le armi nucleari nel passaggio dalla Guerra Fredda, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, fino ad arrivare ad oggi. Questo è un po' quello che vorremmo fare oggi con voi. Grazie. Per concludere, soltanto qualche nota sui nostri relatori, i nostri ospiti. Il professor Leopoldo Nuti, che insegna storia delle relazioni internazionali, sarà il primo ad intervenire, al quale chiederemo un intervento di taglio storico sulla politica della deterrenza. Come dicevo, insegna storia delle relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche ed è direttore della sezione di studi internazionali della scuola di dottorato dell'Università di Roma 3. È direttore del Centro Machiavelli per gli studi sulla Guerra Fredda, laureato a Firenze e ha dottorato a Roma, è stato borsista Fulbright, nato a Research Fellow, Jean Monnet Fellow all'Istituto Universitario Europeo, Research Fellow presso il CSI ad Harvard, Research Fellow per il Nuclear History Program, Senior Research Fellow all'Istituto Norvegese Nobel e Visiting Professor all'Istituto d'Istituto Politique di Parigi. È un numero ampio di pubblicazioni in inglese e in francese, oltre che in italiano, sulle relazioni tra USA e Italia, sulle politiche italiane in materia di estero e sicurezza. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo l'esercito italiano del secondo dopoguerra, 1945-1950, i missili di ottobre, la storiografia americana e la crisi cubana del 1962, e la sfida nucleare che è pubblicato per il Molino nel 2007. La professoressa Enza Pellecchia, che farà da moderatrice e che ci introdurrà sul concetto di sicurezza umana, invece è professore di diritto privato verso i corsi di laurea di giurisprudenza in Scienze per la Pace dell'Università di Pisa e vice direttore del Centro Internazionale Discipline di Scienze per la Pace. È membro del comitato scientifico della campagna senza atomica promossa dall'Istituto Buddhista Soga Gakkai e si occupa di diritti della persona. Credo di aver letto di nuovo la biografia sbagliata, oppure questa correla. Mi chiedo scusa, chiedo scusa. Invece, per concludere, il professor Francesco Lenci, fisico e dirigente, è stato dirigente di ricerca del CNR, è direttore dell'Istituto di Biofisica del CNR, è membro scientifico, scusate, è membro del Consiglio Scientifico Generale del CNR e si occupa prevalentemente di biofisica sensorale e spettoscopia di fotopigmenti. Agli inizi degli anni Ottanta si avvicina alla questione del disarmo e del controllo degli armamenti, diventando successivamente membro del Pugwash del Consiglio Scientifico dell'Unione Scienziati per il Disarmo, associazione di cui è stato segretario generale dal 1983 al 1990, insegna sistemi d'arma, disarmo e controllo degli armamenti all'interno del corso di laurea di Scienze per la Pace. Con questo io concludo e lascerei la parola al professor Nuti. Grazie. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito, complimenti per l'iniziativa che mi sembra decisamente interessante e meritoria. Il mio compito ingrato è quello di riassumere una biblioteca di qualche centinaio di volumi in circa mezz'ora senza annoiarvi troppo perché sulla storia e soprattutto sulla teoria delle armi nucleari ovviamente gli studi nel corso degli ultimi 60 anni si sono accumulati. Molto rapidamente quello che vorrei provare a fare nel tempo a mia disposizione è cercare di definire i termini del dibattito sulla deterrenza così come si sono sviluppati storicamente nel corso della guerra fredda discutere con voi su le tesi contrapposte che si sono sviluppate in merito a questo principio e poi vedere nella parte finale della relazione in che misura i termini del dibattito durante la guerra fredda sono ancora applicabili all'epoca contemporanea o se viviamo in una fase in cui invece la logica della deterrenza non è più applicabile o per lo meno non è più applicabile nei termini in cui lo era negli anni precedenti quelle foto che abbiamo visto segnano l'inizio di un'era nuova nella storia non c'è dubbio che a partire dal 45 gli uomini hanno a disposizione degli strumenti di distruzione senza precedenti gli stessi scienziati che lavorano al progetto Manhattan si interrogano sul senso di quello che stanno facendo e una delle domande chiave che costituiscono poi il pilastro di tutto il ragionamento intorno alla storia delle armi nucleari la fa Niels Bohr il padre della fisica moderna lo scienziato danese di origine ebraica che fugge dalla Danimarca occupata e quando nel 1944 arriva allo Salamos e va a trovare i suoi amici che lavorano al progetto Manhattan e viene aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori la prima domanda che fa a Oppenheimer e agli altri è davvero grande abbastanza? Is it really big enough? E il senso di questa domanda è così grande da garantirci di poter evitare la guerra in futuro? Cioè è un'arma così spaventosa e ha una capacità di distruzione tale da rendere obsoleta la guerra? In altre parole Bohr coglie immediatamente che si sta entrando in un'epoca diversa in cui queste armi non rispondono più alla logica precedente di essere impiegate per vincere la guerra questo è il paradosso chiave di tutta l'era nucleare intorno a cui si sviluppano poi i ragionamenti e i dibattiti strategici dopo il loro impiego alla fine della seconda guerra mondiale già dai primi mesi dopo il loro impiego dal 46 le prime riflessioni strategiche ruotano intorno alla domanda essenziale di Niels Bohr queste armi sono così distruttive hanno una potenza tale da rendere obsoleta la guerra da evitare la guerra e le prime risposte le forniscono alcuni teorici americani già dal 46 Brody Bernard Brody uno dei primi a pubblicare uno studio di riflessione su questi temi scrive che la prima conseguenza ovvia dell'introduzione di queste armi è che gli statisti adesso devono pensare non a come utilizzarle ma a come non utilizzarle per la prima volta i militari i politici devono pensare al fatto di avere a disposizione uno strumento di una capacità distruttiva tale che si deve pensare a come prevenirne l'uso da parte del nemico più che a pensare come utilizzarlo per i propri vantaggi e la riflessione teorica si completa con quello che scrive Hans Morgentau che è uno dei principali teorici delle relazioni internazionali che di lì a un paio d'anni arriverà ad una conclusione ineccepibile c'è stata una vera e propria rivoluzione nella storia scrive Morgentau nella struttura delle relazioni internazionali una guerra nucleare totale che è in grado di distruggere tutti i belligeranti e così eliminare la distinzione tra vincitori e vinti è un'impresa totalmente irrazionale cioè in un mondo razionale non ha senso pensare di impiegare queste armi non c'è nessun fine che ne lo possa giustificare scrive Morgentau è uno strumento di omicidio di massa o di genocidio se seguite il ragionamento di Brody e di Morgentau arrivate alla conclusione che è un po' alla base della teoria della deterrenza e cioè che nel nuovo sistema internazionale che nasce dopo la seconda guerra mondiale gli stati si confrontano con questi strumenti distruttivi così terribili congelando la loro sfida perché nessuno dei due è in grado o ha voglia di rischiare la possibilità che queste armi vengano davvero impiegate la deterrenza in altre parole significa scoraggiare l'impiego di questa arma da parte dell'avversario deterrere qualcuno incutergli un timore tale da pensare che è impossibile utilizzare gli strumenti a loro disposizione ora questa conclusione teorica però in realtà e dopo vedremo come si svilupperà anticipa in un certo senso gli sviluppi delle relazioni internazionali perché Brody Morgenthau e altri costruiscono un quadro teorico di quella che è la nuova era delle relazioni internazionali dopo l'arrivo della bomba atomica ma in realtà in pratica le cose non vanno esattamente così perché si arrivi ad un meccanismo di deterrenza più o meno simmetrica in cui le due superpotenze si scoraggiano a vicenda dall'impiego delle armi nucleari in realtà ci vogliono molti anni permettetemi di fare lo storico e di citare un po' di date prometto di non abusare di questa prerogativa degli storici ma qualcuna la devo menzionare la prima è che è quella del 1949 fino al 1949 fino all'agosto del 49 gli Stati Uniti hanno il monopolio dell'arma atomica e non solo continueranno ad avere una superiorità strategica nei confronti dell'Unione Sovietica dopo vedremo un attimo meglio che cosa voglio dire fino al 1957 questo vuol dire che c'è una prima fase della storia delle relazioni internazionali del dopoguerra in cui gli Stati Uniti pensano di monetizzare questo loro vantaggio hanno una superiorità si tratta di cercare di capire come possono sfruttarla in termini politici l'illusione che si possa in tempi molto brevi trarre dei vantaggi dal punto di vista politico e diplomatico da questo monopolio in realtà è un'illusione che ha una vita molto limitata l'amministrazione Truman per tutto il periodo delle conferenze di pace 45 e 46 prova a utilizzarla come strumento di pressione nei confronti dell'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica non si lascia minimamente intimidire anzi tiene un atteggiamento ancora più rigido nei confronti di quello che percepisce come un tentativo americano di metterla in un angolo quindi ben presto l'amministrazione Truman si rende conto che la superiorità schiacciante in termini di monopolio nucleare non è monetizzabile non è traducibile così facilmente in un vantaggio al tavolo del negoziato questo non significa però che non si cerchi di sfruttare questa superiorità in altri campi per esempio l'Unione Sovietica ha chiaramente una superiorità militare in termini convenzionali alla fine della seconda guerra mondiale perché gli Stati Uniti smobilitano rapidamente le loro forze e l'armata rossa non lo fa e si pensa di utilizzare l'arma nucleare come una sorta di strumento per bilanciare asimmetricamente il monopolio nucleare americano serve a bilanciare la superiorità sovietica in armi convenzionali anche questa logica si incrina dal momento in cui l'Unione Sovietica fa il suo primo test nell'estate del 49 il che non toglie però che gli Stati Uniti continuino a cercare di sfruttare in un certo senso il vantaggio che hanno acquisito e questo glielo consente il fatto che loro sono in grado di minacciare e colpire il territorio sovietico con armi nucleari restando sostanzialmente immuni da una possibile rappresaglia sovietica perlomeno fino al 1957 questo per un motivo molto semplice i sovietici hanno la bomba atomica a partire dal 49 ma non hanno vettori in grado di colpire il territorio americano l'Unione Sovietica non ha investito nel corso della seconda guerra mondiale nella costruzione di bombardieri a lungo raggio e l'unico modo in cui quando comincia a costruirne i suoi bombardieri potrebbero raggiungere il territorio americano e eventualmente sganciare bombe atomiche sul territorio americano quindi bilanciare un attacco nucleare americano con un attacco sul territorio degli Stati Uniti è se i suoi piloti fanno un viaggio senza ritorno i bombardieri strategici sovietici non hanno un raggio d'azione tale da consentirli di colpire il territorio americano e tornare indietro mentre quelli americani partendo dalle basi in Europa possono farlo in caso di una guerra atomica nei primi anni 50 si pensa che i piloti sovietici dovrebbero buttarsi in mare e sperare di cavarsela o atterrare in un paese neutrale come il Messico dopo aver bombardato il territorio americano quindi resta una simmetria che gli Stati Uniti cercano comunque di sfruttare al loro vantaggio con la dottrina della rappresaglia massiccia all'inizio del 1953 subentra una nuova amministrazione quella dell'ex generale Eisenhower il vincitore della seconda guerra mondiale in Europa e Eisenhower imposta la strategia americana su un calcolo di lungo periodo si pensa che gli Stati Uniti ancora per molti anni avranno una superiorità schiacciante in termini di armi nucleari nei confronti dell'Unione Sovietica e che quindi gli convenga minacciarne l'impiego per tenere sotto scacco l'Unione Sovietica e questa strategia si basa soprattutto sulla credibilità della minaccia John Howard e il suo segresario di Stato John Foster Dallas minacciano di impiegare le armi nucleari per impedire mosse aggressive da parte dell'Unione Sovietica è l'ultimo tentativo se vogliamo di sfruttare questa decrescente superiorità che gli Stati Uniti hanno ovviamente la credibilità di questa impostazione americana statuta del fatto che gli Stati Uniti devono impunemente minacciare di poter colpire il territorio sovietico senza temere a loro volta una rappresaglia è per questo che la rappresaglia massiccia viene pesantemente incrinata quando nel 1957 l'Unione Sovietica testa il suo primo missile balistico intercontinentale che ci fa entrare in una fase successiva della storia delle relazioni internazionali da quel momento in poi il territorio americano non è più un santuario i sovietici sono in grado di colpirlo e sono in grado di bilanciare la superiorità di cui gli Stati Uniti hanno goduto fino a questo momento ancora non è un effetto immediato avere un missile intercontinentale non significa essere in grado di scoraggiare un attacco nucleare americano ma certo il progressivo aumento di queste armi nell'arsenale sovietico porta a un equilibrio questo equilibrio è quello che Brody e Morgentau avevano teorizzato negli anni precedenti a questo punto si raggiunge una situazione di stallo entrambe le superpotenze sono in grado di infliggersi danni devastanti anche perché nel frattempo si è passati tra il 52 e il 54 dalle armi a fissione alle armi a fusione cioè armi termonucleari che usano il calore generato dall'esplosione di una bomba atomica per fondere l'atomo e quindi generare una reazione dalla potenza distruttiva ancora maggiore devo misurare attentamente le parole perché quando parlo con dei fisici ho sempre paura di dire delle sciocchezze gli storici cercano di imparare i rudimenti della fisica ma insomma non sono mai così precisi come chi lo fa di professione l'introduzione delle armi termonucleari e dei missili balistici intercontinentali porta a questa nuova fase che va grosso modo dalla fine degli anni 50 fino alla fine della guerra fredda è quello che all'epoca verrà poi conosciuto con l'acronimo con la sigla di MED Mutual Assured Destruction la distruzione reciproca la sicurezza della distruzione reciproca che in un certo senso sembra realizzare sul piano pratico le teorie di quanti discutevano dell'impatto delle armi nucleari sulla scena internazionale a questo punto ci possiamo chiedere quanto fosse stabile questo sistema e qui si entra in un terreno minato un terreno estremamente scivoloso e pericoloso alcuni storici hanno sostenuto che la presenza delle armi nucleari sia diventata una delle caratteristiche costitutive della guerra fredda e abbia svolto sostanzialmente un ruolo positivo prevenendo uno scontro tra le due grandi potenze la minaccia della distruzione reciproca con armi capaci di cancellare ogni traccia di civiltà nei territori che ne venissero colpiti chiaramente era talmente spaventosa da bloccare mosse azzardate e da indurre gli statisti a un comportamento più responsabile quindi sostiene per esempio John Lewis Geddes uno dei principali storici americani della guerra fredda si entra in quella che si può chiamare invece che guerra fredda la lunga pace la stabilità fondamentale che Geddes attribuisce al periodo dalla fine degli anni 50 fino alla fine della guerra fredda è imputabile in gran parte alla presenza delle armi atomiche tesi discutibile come vedremo tra un attimo ma che ha a tutt'oggi una gamma di assertori di sostenitori molto nutrita un altro studioso inglese Sir Michael Howard sostiene addirittura che la deterrenza nucleare abbia svolto un ruolo positivo non solo ha evitato la guerra ma è servita all'Occidente per scoraggiare l'Unione Sovietica dalla possibilità di usare le sue forze militari per conseguire i suoi obiettivi politici altri studiosi hanno si sono spinti a investigare le fondamenta teoriche di questo sistema alcuni storici gli hanno attribuito questa capacità di stabilità altri studiosi si sono interrogati su quali sono i prerequisiti necessari perché questa logica di deterrenza di terrore reciproco funzioni e è nata soprattutto nell'ambito della scienza politica della teoria delle relazioni internazionali la cosiddetta teoria della deterrenza razionale che si basa su tre assunti principali il primo è che entrambi gli attori che si devono incutere timore a vicenda siano razionali è chiaro che se io ho a che fare con un pazzo il pazzo può non essere scoraggiato dalla distruzione che io possa arrecare al suo territorio e quindi la mia minaccia perde di valore e di credibilità quindi il postulato essenziale perché si abbia un regime di stabilità e di deterrenza che entrambi gli attori siano razionali ma non basta nella teoria della deterrenza razionale è altrettanto importante che le intenzioni siano percepite chiaramente quello che i teorici chiamano il signaling cioè l'invio dei segnali io devo dimostrare chiaramente quali sono le mie intenzioni e il mio avversario le deve percepire in maniera obiettiva quindi non ci può essere possibilità di errore perché si abbia un meccanismo di equilibrio di deterrenza perfetta a questo si aggiunge la credibilità della minaccia e la credibilità della minaccia vuol dire che io devo essere capace di disporre di strumenti tali da rendere credibile la minaccia dell'impiego di queste armi per esempio è quello che poi in termini concreti si tradurrà nella cosiddetta capacità di secondo colpo second strike capability non basta avere un arsenale nucleare perché il mio avversario potrebbe essere indotto a distruggermelo con un attacco preventivo devo avere un arsenale nucleare così ampio da essere in grado di sopravvivere a un eventuale attacco nucleare a sorpresa il mio avversario e colpirlo infliggendogli danni incalcolabili in grado da scoraggiarlo dal lanciare un attacco nucleare preventivo quindi perché si abbia un meccanismo di stabilità a livello teorico e la deterrenza abbia una sua logica ci vuole la razionalità di entrambi gli attori la chiarezza nell'emissione nella percezione dei segnali e la credibilità della minaccia quelli che sostengono che la guerra fredda tutto sommato ha visto l'applicazione di un meccanismo di deterrenza perfetta si basano sul fatto che non c'è stata una guerra nucleare e quindi il meccanismo ha funzionato non c'è stata una guerra mondiale perché le armi nucleari l'hanno scoraggiato da un punto di vista logico è difficile confutare questa affermazione come si fa a smentire qualcosa che non è accaduto o a provare una negazione è qualcosa che è chiaro che a tutti suona abbastanza plausibile questa affermazione d'altra parte dovremmo essere però tentati dall'andare a verificarne la concretezza e la ragionevolezza e qui spendo una lancia a favore del lavoro degli storici perché gli storici al contrario dei politologi sono spesso portati ad andare a cercare il pelo il pelo nel nuovo per esempio sottolineando il fatto che questo meccanismo non era così stabile e che gli attori non erano così irrazionali e che anzi in alcuni casi proprio la presenza di armi nucleari rendeva gli attori più inclini a compiere mosse arrischiate per esempio Khrushchev che tra il 58 e il 62 si lancia in una serie di sfide agli Stati Uniti perché si sente più forte grazie alla progressiva parità strategica che sta acquisendo quindi prima la seconda crisi di Berlino poi la crisi di Cuba che tra il 58 e il 62 portano effettivamente il mondo sulla soglia di una guerra atomica in più di una circostanza quindi in realtà non è affatto vero che le armi nucleari hanno stabilizzato la guerra fredda in alcuni casi hanno avuto l'effetto opposto quando a partire dalla seconda metà degli anni 70 e per la prima metà degli anni 80 le due alleanze schierano in Europa una nuova generazione di armi nucleari in realtà entriamo in una spirale di minacce reciproche che rende nuovamente pericoloso il confronto e sappiamo adesso che ci sono stati dei momenti in cui si è andati pericolosamente vicini alla guerra atomica lo studio delle nuove fonti storiche emerse negli ultimi anni dimostra come per esempio nel corso della crisi di Cuba ci siano stati dei momenti in cui da una parte o dall'altra si è pensato seriamente alla possibilità di ricorrere a queste armi un esempio su tutti forse avrete sentito parlare del famoso dibattito all'interno del sottomarino sovietico a largo di Cuba in cui il comandante e l'ufficiale politico sottoposti a un attacco con bombe di profondità da parte degli americani per costringerli ad emergere discutono se lanciare o no uno dei siluri attestato a nucleare che hanno a bordo sono isolati dal resto del mondo non sanno quello che sta succedendo non sanno se l'attacco che gli viene rivolto è un attacco per farli emergere o per distruggere il loro sottomarino e uno di loro il comandante dice va bene ce ne andiamo in gloria tirando il nostro assiduro nucleare contro le navi americane e l'eroe della situazione è l'ufficiale politico Archivov che gli dice no un momento pensiamoci bene anche se non abbiamo istruzioni forse non è il caso di iniziare una guerra atomica alla faccia della stabilità della teoria della deterrenza sarei portato a sottolineare quindi in realtà il dibattito tra storici e politologi non ha raggiunto una conclusione così solida come sostengono i fautori della teoria della deterrenza è vero che non c'è stata una guerra nucleare ma ci sono stati momenti di rischio molto elevati e ci sono stati delle spirali di riarmo reciproco che hanno in più di un'occasione peggiorato il rapporto tra le due superpotenze quindi forse la guerra fredda non era così stabile e non era la lunga pace di cui ci ha parlato ci ha parlato Gendis ancora più difficile è capire se funzioni quella che in termini teorici trovate la spiegazione anche in questo libretto che vi consiglio di leggere con attenzione è la cosiddetta deterrenza estesa o extended deterrence cioè la capacità di uno stato di scoraggiare un attacco nucleare non contro il suo territorio ma contro quello dei suoi alleati per citare la frase del generale De Gaulle che sintetizza efficacemente il problema gli Stati Uniti sarebbero disposti a rischiare la distruzione di Detroit per difendere Parigi se l'Unione Sovietica attacca l'Europa occidentale con armi convenzionali gli americani lanceranno le loro bombe atomiche per bloccare questo attacco sapendo che ci sarebbe una rappresaglia sovietica sul loro stesso territorio quindi sono disposti a rischiare Detroit per difendere Parigi eppure la logica della extended deterrence della deterrenza estesa gioca un ruolo importante nella guerra fredda perché ad un certo momento gli Stati Uniti per prevenire il riarmo di tutti i paesi loro alleati in Europa occidentale quindi per prevenirne il riarmo nucleare nazionale offrono la loro garanzia di tutela nucleare la offrono all'Italia alla Germania Francia e Gran Bretagna non sono così convinti o comunque ritengono di doversi dotare di armi nucleari loro proprie gli altri paesi europei si ritengono soddisfatti dal cosiddetto nuclear sharing dalla condivisione dell'arsenale nucleare americano che è una cosa molto complicata in realtà perché non c'è un unico modo di condividere l'arsenale nucleare si va da una condivisione fisica effettiva quando in Italia vengono schierati tra 1959 e 1963 in Puglia in Basilicata i missili Jupiter quei missili possono essere lanciati solo ed esclusivamente se entrambi gli ufficiali che sono sulla piazzola di lancio uno americano e uno italiano inseriscono la loro chiave il cosiddetto meccanismo della doppia chiave non è in questo caso soltanto un consenso di entrambi i governi entrambi girano con una chiavetta al collo nella base e devono inserirla fisicamente nel missile perché il missile possa partire prima l'ufficiale italiano e poi l'ufficiale americano i cosiddetti launch authentication officers in questo caso la condivisione americana del proprio arzionale si spinge molto in avanti in altri casi si tratta di una semplice garanzia gli australiani per esempio insistono perché anche a loro venga concesso questa formula di nuclear sharing di cui godono gli europei senza mai arrivare ad un livello così avanzato ma anche questa formula di condivisione è una garanzia sufficiente che gli alleati possono giovarsi della protezione americana alla vigilia del discorso televisivo con cui Kennedy annuncia la presenza di missili sovietici a Cuba il 22 ottobre 1962 dalla Casa Bianca parte un ordine che dice il presidente ha ordinato di fare in modo con certezza che i Jupiter schierati in Italia e in Turchia non vengano lanciati senza la sua ulteriore autorizzazione anche nel caso di un attacco nucleare o di un attacco non nucleare su queste stesse unità da parte dell'Unione Sovietica in risposta a azioni che possiamo prendere altrove in tante parole se gli Stati Uniti attaccano Cuba e i sovietici attaccano le basi in Italia e in Turchia non ci deve essere un uso di queste armi senza l'autorizzazione del presidente e l'ordine che viene mandato agli ufficiali che comandano queste basi dovete prendere qualunque passo sia necessario per assicurare che non ci sia nessuna azione senza l'autorizzazione presidenziale in altre parole all'apice della crisi la credibilità della deterrenza estesa viene messa viene messa in discussione quindi questo meccanismo che si crea durante la guerra fredda è tutt'altro che perfetto che senso ha tutto questo ce l'ho ancora cinque minuti cerco di avviarmi verso la conclusione ha un senso tutto questo dibattito per l'epoca in cui viviamo o siamo entrati con la fine della guerra fredda in un periodo completamente diverso anche qui il dibattito è aperto alcuni sostengono che ci sono delle differenze strutturali tra il sistema internazionale della guerra fredda e quello dell'epoca contemporanea e che ci sono in modo particolare due ordini di differenze da tenere presente il primo è che il sistema della guerra fredda è un sistema sostanzialmente bipolare e che il bipolarismo Stati Uniti Unione Sovietica è inerentemente più stabile del multipolarismo siamo entrati in una fase in cui in teoria c'è una superpotenza più forte di tutte le altre gli Stati Uniti ma come vediamo spesso in realtà non viviamo in un sistema egemonico ma in un sistema di difficile definizione in cui c'è una forte superiorità militare da parte degli Stati Uniti ma una crescita di tutta una serie di altri stati dalla Cina all'India il Brasile la stessa Russia post-sovietica che in qualche maniera svolgono un ruolo altrettanto importante e assertivo nel sistema internazionale questo ordine multipolare sostengono i teorici è molto più instabile di quello del periodo precedente e quindi la logica della deterrenza in questo caso potrebbe non funzionare e potrebbe non funzionare anche perché sostengono alcuni in teoria alcuni dei nuovi attori possono non essere così razionali come lo erano quelli dell'epoca della guerra fredda c'è un antropologo americano che ha criticato duramente questa impostazione prendendo a prestito il termine creato da Edward Said di orientalismo cioè di distorsione del pensiero di una regione che non si conosce coniando l'espressione orientalismo nucleare Hugh Gusterson dice in realtà è una presunzione da parte di noi occidentali pensare che un leader politico pakistano o indiano possa essere meno razionale di noi in realtà sono razionali quanto noi e quindi non si vede perché la logica della deterrenza non possa essere applicata anche da loro diciamo limitiamoci a dire che il problema è oggetto di dibattito e che è legittimo interrogarsi innanzitutto sul fatto se effettivamente durante tutta la durata della guerra fredda i nostri leader militari e politici siano stati così razionali come la teoria li dipinge e in alcuni casi forse non lo sono stati e poi è legittimo chiedersi se i leader politici e militari dei paesi che si sono dotati successivamente o pensano di dotarsi della bomba atomica siano così irrazionali come vorremmo o saremmo tentati di pensare che siano due esempi e che davvero mi avvio alla fine due esempi per dimostrarvi come il dibattito sia lontano dal trovare un punto di arrivo nel 1999 India e Pakistan si affrontano nella guerra del Kargil il Kargil è una regione del Kashmir l'oggetto di contesa perenne tra questi due stati dopo aver dimostrato ufficialmente nel maggio dell'anno precedente di essersi dotati di armi nucleari è una guerra combattuta tra due stati dotati entrambi di armi atomiche che ruolo hanno le armi nucleari in questa crisi hanno un ruolo di stabilizzazione come sostiene uno studioso indiano Sumit Ganguli che dice vedete nonostante questi due stati si odino e si facciano la guerra appena possibile le armi nucleari hanno avuto l'effetto logico previsto dalla deterrenza cioè si sono fermati prima di oltrepassare la soglia che avrebbe potuto scatenare una guerra nucleare quindi la deterrenza funziona sostiene Ganguli c'è stata una guerra ma è stata una guerra limitata condotta con armi convenzionali e che è stata frenata prima che potesse degenerare il suo antagonista un altro studioso indiano Kapoor ha sostenuto l'opposto la guerra è nata esattamente perché la padronanza di armi atomiche da parte del Pakistan ha indotto i pakistani a lanciare un attacco convenzionale preventivo perché si sentivano più sicuri che avrebbero potuto tenere a freno una rappresaglia indiana quindi in realtà non è possibile dimostrare nell'una nell'altra cosa e comunque è quantomeno rischioso affermare che la presenza delle armi atomiche ha svolto un ruolo positivo congelando la guerra perché si può benissimo sostenere il contrario che anzi la guerra l'hanno incentivata o provocata inducendo i leader pakistani ad un atteggiamento più rischioso più aggressivo il caso dell'Iran quello che occupa gran parte dell'attenzione contemporanea insieme alla Corea del Nord anche qui ci sono due note posizioni contrapposte quelle di due studiosi americani che da anni hanno messo su una specie di show sistematico in cui fanno ogni due tre anni la stessa edizione aggiornata dello stesso libro dei massimi teorici di questi problemi Kenneth Waltz e Scott Sagan Sagan sostiene che è troppo rischioso pensare che l'Iran si doti delle armi nucleari non semplicemente perché i suoi leader potrebbero essere irrazionali non è tanto quella la sua paura quanto lui pensa che potrebbe un governo iraniano non essere in grado di esercitare il controllo necessario che quindi queste armi potrebbero finire in mano o a qualche fazione radicale estremista all'interno delle forze armate o addirittura a gruppi terroristi che potrebbero essere indotti a non esercitare la necessaria cautela e moderazione nei confronti del loro impiego Wals sostiene esattamente il contrario i leader iraniani si comporteranno come qualunque altro statista che ha avuto a disposizione l'arma nucleare anzi sostiene Wals sarà più sobrio un politico iraniano che avesse a disposizione armi atomiche perché si renderebbe conto dei rischi che il loro impiego potrebbe generare per il proprio paese e quindi il dibattito sull'effetto delle armi nucleari sul sistema internazionale e sulla loro capacità di giocare un ruolo di stabilizzazione perché questa è la conclusione a cui dovremmo arrivare se adottassimo e facessimo la nostra teoria della deterrenza che scoraggiandoci a vicenda dall'impiegarle stabilizziamo il sistema internazionale il dibattito in realtà è tutt'altro che concluso la discussione continua per quello che riguarda la mia posizione personale francamente sono relativamente perplesso sulla capacità stabilizzatrice di queste armi credo che la loro moltiplicazione e la loro diffusione generi un effetto di progressiva incrinatura delle stabilità del sistema internazionale e non sono così convinto come Waltz o Geddes che abbiano avuto un effetto di stabilizzazione nel lungo periodo si può pensare che la deterrenza in alcuni casi abbia funzionato mi sembra una scommessa molto rischiosa immaginare che possa continuare a funzionare per il futuro quando non si è neanche così certi che lo abbia fatto per il passato grazie come avete visto di ascoltare un contributo così prezioso ci tengo a sottolineare questa cosa perché in questi ultimi anni la grande preoccupazione che ha animato la campagna senza atomica tutte le manifestazioni e le occasioni di riflessione e approfondimento che ci sono state in giro per l'Italia è stata proprio questa cioè promuovere un dibattito che fosse un dibattito accurato documentato dal punto di vista scientifico il meno ideologico possibile per mettere le persone in condizioni di capire e di poter formulare delle valutazioni e di poter fare delle scelte su basi scientifiche su basi rigorose su basi documentate dal punto di vista storico anche del dibattito filosofico eccetera quindi davvero un contributo prezioso quello del professor Nuti che ringrazio e che sono certa coinvolgeremo in tantissime altre occasioni nella campagna senza atomica per poter continuare a approfondire e faccio i complimenti ai ragazzi del forum degli allievi della normale per la capacità con cui hanno individuato un relatore così bravo e competente abbiamo avuto finora il punto di vista l'analisi dello storico abbiamo parlato dell'uso che dal punto di vista politico e l'incidenza che appunto gli arsenali nucleari hanno avuto nel predisporsi del dispiegarsi delle relazioni internazionali però adesso dobbiamo un po' capire che cosa queste armi sono effettivamente qual è il loro potenziale distruttivo e come nel tempo il potenziale distruttivo di queste armi sia enormemente cresciuto do per questo la parola al professor Francesco Lenci il professor Francesco Lenci è un fisico ci tengo a sottolineare questa cosa non soltanto per richiamare la vostra attenzione sul fatto che il contributo sarà anche in questo caso un contributo scientifico e rigoroso ma perché c'è qualcosa in più che riguarda appunto il riscatto che i fisici hanno avviato subito dopo l'esplosione delle bombe di Hiroshima e Nagasaki è celebre la frase di Oppenheimer la fisica ha conosciuto il peccato ed è una conoscenza che non potrà mai più dimenticare oppure sempre lo stesso Oppenheimer che era stato un grandissimo sostenitore della progettazione e poi dell'uso dell'arma atomica diventerà successivamente uno dei fisici maggiormente impegnati per evitare scongiurare il rischio dell'olocausto nucleare ebbene Francesco Lenci è un fisico che appartiene a questa tradizione non soltanto di pensiero ma di impegno perché come avete sentito nella presentazione fa parte di associazioni internazionali di fisici impegnati per il disarmo il Pugwash l'associazione fondata da Rothblatt il fisico che disse no alla bomba quando apprese tramite i servizi segreti inglesi che i tedeschi i nazisti non avrebbero mai potuto avere la bomba atomica perché avevano intrapreso una strada che li portava lontani dalla possibilità di realizzare concretamente un ordiglio nucleare e l'USPID Unione Scienziati per il disarmo e quindi con particolare piacere gli do la parola grazie Enza troppo gentile grazie ai ragazzi della scuola normale per avermi invitato e per continuare in questo straordinario e caparbio impegno nonostante le difficoltà che oggi chi vuole ragionare su questi problemi incontra e grazie anche a Leopoldo Nuti che ho ascoltato con grandissimo interesse ho imparato un sacco di cose e grazie a Daniele a Enza a Tutta Senza Atomica che è un elemento di non soltanto di sensibilizzazione ma di invito alla riflessione e al ragionamento sui problemi che riguardano il futuro dell'umanità Enza ha citato Joe Rothblatt che è stato segretario generale delle conferenze Pagos ha avuto il premio Nobel per la pace nel 1995 e fu l'unico che lasciò il progetto Manhattan nel 1944 un mondo libero d'armi nucleari era il grande sogno di Joe Rothblatt e il problema dallo stesso Rothblatt veniva posto in termini che riecheggiano un po' le conclusioni di Leopoldo un mondo libero d'armi nucleari è fattibile è desiderabile io cercherò adesso di dare un'idea di qual è la situazione attuale dopo la guerra fredda e sarò molto schematico perché vorrei lasciare un poco di tempo per domande e chiarimenti la guerra fredda non finisce con la caduta dell'Unione Sovietica comincia a cadere molto prima nel 1985 l'Unione Sovietica Gorbachev era segretario Repkus porta prende l'iniziativa unilaterale di sospendere tutti i test nucleari è un'iniziativa unilaterale che fa nascere nella comunità scientifica internazionale una grande attenzione a questo problema e nel 1986 si riunisce un forum dedicato interamente ai problemi dei test nucleari e a rilanciare il trattato per il bando completo dei test nucleari il comprehensive test ban che non è ancora in vigore e dopo acceneremo anche a questo nel 1987 nel febbraio dell'87 Gorbachev convoca a Musca un forum internazionale sui problemi della pace e la prospettiva è quella di liberare il mondo dalle armi nucleari cito una cosa di interesse umano e forse un po' anche storico noi partecipammo come unione scienziata per il disarmo a quella riunione e Edoardo Amaldi condizionò la sua partecipazione al forum di Mosca e la liberazione di Sakharov Sakharov fu liberato partecipò al forum di Mosca e se io ben ricordo fu proprio Sakharov che ebbe un'intuizione di importanza determinante per lo sviluppo dei processi di disarmo alla presidenza degli Stati Uniti c'era Ronald Reagan nel 1983 Reagan aveva lanciato l'iniziativa di difesa strategica con l'obiettivo di proteggere il mondo dall'impero del male l'unione sovietica ma Reagan aveva anche una grandissima attenzione ai problemi della pace tant'è che a Reykjavik Reagan e Gorbaciov decisero quel trattato per l'eliminazione delle forze nucleari e intermedie che erano installate in Europa bene accennavo a questa intuizione di Sakharov c'era un grande stallo di trattative sulle armi nucleari strategiche e si considerava la discussione di un trattato sulle armi nucleari intermedie accoppiato al problema del successo delle trattative sulle armi nucleari strategiche l'idea di Sakharov era di disaccoppiare questa discussione così avvenne e come sapete nel 1987 fu firmato il primo trattato che comportava lo smantellamento e la distruzione di interi sistemi d'arma i Pershing II e i Cruz in Europa e gli SS20 nel blocco sovietico oggi la questione della deterrenza assume degli aspetti particolarmente difficili secondo me come accennava Leopoldo Nuti prima e voglio leggere quattro righe di un articolo di Ward Wilson che è stato pubblicato sul New York Times un mese fa il mito della necessità nucleare il Giappone si è reso non a causa della bomba atomica ma perché i sovietici rinunciarono alla neutralità e entrarono in guerra 66 città giapponesi erano già state distrutte con le armi convenzionali due di più non potevano fare una grande differenza inoltre attribuire alla bomba la decisione di arrendersi era una sorta di di scusa di giustificazione per il governo giapponese dopo otto anni di amministrazione Bush con il 2008 sale la presidenza degli Stati Uniti Obama e il quadro internazionale cambia completamente io credo che sia con l'avvento di Obama alla presidenza degli Stati Uniti che si sia davvero ripreso un cammino che può portare a lungo lunghissimo termine ad un mondo libero d'armi nucleari come forse ricordate gli otto anni di Bush furono caratterizzati da una politica estera di dominio da parte degli Stati Uniti di rifiuto dello strumento diplomatico nelle trattative con i paesi canaglia Iran e Corea del Nord e con l'abbandono della via negoziale una delle iniziative strategiche dell'amministrazione Bush era la costituzione di un sistema di difesa antimissile il problema della difesa antimissile era un problema molto vecchio che fu risolto nel 1972 con un trattato l'ABM che proibiva la dislocazione del sistema di difesi antimissili vasti e questo si riallaccia molto bene alle questioni che accennava Leopoldo la mutua assicurata distruzione era un elemento di stabilità e potersi difendere da un attacco nucleare creava la instabilità mi rendo conto che è un po' perverso il ragionamento però è un ragionamento che deve essere fatto con attenzione e con rigore la mutua assicurata distruzione prevedeva che a un qualunque attacco anche a un primo colpo il paese attaccato avrebbe risposto con una rappresaglia intollerabile se un paese possiede dei sistemi di difesa il primo colpo dell'avversario può essere contenuto ma soprattutto può essere contenuta la rappresaglia allora se un paese ha un sistema di difesa antimissile attacca usiamo i due esempi se gli Stati Uniti hanno un sistema di difesa antimissile e attaccano l'Unione Sovietica la rappresaglia dell'Unione Sovietica può essere meno devastante se gli Stati Uniti posseggono un sistema di difesa antimissile e viceversa naturalmente questa possibilità veniva considerata un elemento di insicurezza e di possibile crisi per cui si firmò nel 1972 il trattato ABM ancora oggi il progetto di difesa antimissile basato in Europa è un progetto in fieri costituisce secondo me uno degli ostacoli molto seri al proseguimento del cammino verso la riduzione degli arsenali nucleari degli Stati Uniti e della federazione russa io cerco di rispondere molto schematicamente ripeto a alcune domande che Costanza mi ha segnalato potrebbero interessarvi le nuove armi le nuove strategie il futuro delle armi nucleari strategiche e che cosa può voler dire oggi possedere avere sul proprio territorio armi nucleari le armi nucleari hanno una caratteristica fondamentale oltre a avere il potere distruttivo di cui parlava prima Leopoldo che è milioni di volte superiore al potere distruttivo della stessa quantità di tritolo sono il frutto della ricerca scientifica il progetto Manhattan è stato certamente il progetto di ricerca scientifica più finanziato e coronato da uno stradianario successo e l'impegno della comunità scientifica è determinante per lo sviluppo di nuove armi non soltanto ma la messa a punto di nuovi sistemi ad arma la progettazione e la realizzazione di nuovi sistemi ad arma diventa un motore per per la politica e per le decisioni di tipo strategico perché il possedere una certa arma può condizionare e modificare i piani strategici di una nazione quelli che si chiamano military needs cioè la ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle armi produttrice di nuove esigenze strategiche nella 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 situazione attuale ci sono cinque paesi i cosiddetti cinque stati nucleari stati uniti federazione russia francia inghilterra e cina che sono firmatari del trattato di non proliferazione israele pakistan india posseggono testate nucleari non sono firmatari del trattato di non proliferazione la corea del nord usci dal trattato di non proliferazione come sapete ha effettuato il terzo test un paio di giorni negli anni sessanta era chiaro soprattutto dopo la crisi di cuba che il diffondersi delle armi nucleari era un pericolo inaccettabile era un elemento di instabilità globale che doveva essere evitato Eisnauer fece un famoso discorso al tempo di Atoms for Peace e si avvia una trattativa per firmare un trattato che fu firmato si conclude nel 1970 che prevedeva articolo 6 che gli stati nucleari e cioè i 5 che citavo prima intraprendessero misure di riduzione degli erziali nucleari radicali e in tempi brevi garantiva il sostegno degli stati nucleari a paesi che volessero sviluppare tecnologie nucleari civili purché non andassero nucleare militare e poneva sotto l'agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna il controllo del rispetto del trattato era chiarissimo che l'aumento del numero di stati possedenti armi nucleari era un elemento di pericolosità io credo che il trattato di proliferazione sia uno dei trattati più violati dalle superpotenze che ancora rimane in vigore che è ancora un caposaldo nella prospettiva del disarmo perché l'articolo 6 siamo nel 1970 l'articolo 6 prevedeva tagli radicali negli arzenali nucleari siamo nel 1970 le testate nucleari strategiche a giro per il mondo sono circa 7500 nel 90 sono 23700 quindi più più clamorosa violazione del trattato di non proliferazione io credo non esista ciò nonostante il trattato di non proliferazione è considerato un trattato fondamentale per la pace e la coesistenza pacifica e la sicurezza internazionale il problema e questo lo dico per riallacciarmi alla questione del test coreano e del programma nucleare iraniano è quella dei due pesi e due misure se gli stati nucleari non rinunciano a possedere arsenali nucleari e affidano la loro sicurezza al possesso di arsenali nucleari creano inevitabilmente un processo che può concludersi con la decisione che il possesso della bomba è un elemento di sicurezza e di prestigio nazionale c'è una dichiarazione del 65 di Baba che era l'addetto alla ricerca scientifica in India noi dobbiamo trovare il modo di far guadagnare ad una nazione tutto quello che può guadagnare andando nucleare senza andare nucleare quello l'obiettivo che noi dobbiamo avere è quello di svalutare il il possesso dell'arma nucleare come uno strumento di sicurezza e di prestigio Bill Harkin qualche anno fa riportava una dichiarazione di un alto ufficiale indiano che sosteneva che se volevi trattare con un altro paese in particolare con gli Stati Uniti prima dovevi dotarti di un'arma nucleare e poi avviare la trattativa e questo è un modo paradossale ma significativo di far capire qual è il problema oggi del possesso delle armi nucleari allora quando l'Iran sostiene che il suo progetto è un progetto nucleare civile è lo strumento diplomatico è la trattativa è la cooperazione internazionale che deve essere utilizzata non l'iniziativa di installare un sistema di difesa antimissile che potrebbero venire dall'Iran il caso della Corea del Nord è abbastanza complicato ma nel 1994 Carter firmò un accordo che prevedeva degli aiuti alla Corea del Nord se la Corea del Nord avesse abbandonato il proprio programma nucleare militare si diceva prima con Leopoldo che non è escluso che almeno in una prima fase il proseguimento del programma nucleare militare sia stato usato come una sorta di merce di scambio per avere aiuti e per avere garanzie il il fatto che oggi e concludo ci ah no scusate mi dimenticavo le due una delle vostre domande che cosa succede a un paese che possiede armi nucleari nella Nuclear Posture Review cioè il documento che disegna la politica strategica per quanto riguarda le armi nucleari degli Stati Uniti Barack Obama sosteneva che non sarebbero mai state usate armi nucleari contro paesi aderenti al trattato di non proliferazione l'Italia aderisce al trattato di non proliferazione ma in Italia ci sono armi nucleari ma questa è una discussione che all'interno della comunità disarmista va avanti da anni è una violazione del trattato di non proliferazione il fatto che sul nostro territorio ci siano armi nucleari tattiche sono armi nucleari tattiche a doppia chiave come diceva Leopoldo ma sono anche armi nucleari che in tempo di guerra possono essere utilizzate direttamente dai piloti italiani senza bisogno dell'autorizzazione americana americana queste armi nucleari non servono assolutamente a niente c'è un movimento in tutta Europa per eliminare queste armi nucleari tattiche e questo potrebbe essere un primo passo se non altro simbolico di appoggio allo START II che è già stato ratificato ma che può non essere mantenuto se da parte della federazione russa viene percepita come una minaccia l'installazione del sistema di difesa antimissili la la diminuzione drastica del numero di testate non ha cambiato minimamente la logica della deterrenza ci sono almeno 1900 testate tra Stati Uniti Federazione Russia Francia Inghilterra che sono utilizzabili con preavvisi dei tempi dell'ordine dei minuti questo perché si fa ancora l'ipotesi che possa essere sferrato contro il paese un attacco nucleare questo vuol dire continuare ad adottare la politica tipica della guerra fredda del lancio su allarme e non del lancio su attacco lancio su allarme vuol dire che se un satellite individua uno sciame di missili che parte dalla federazione russa potrebbe raggiungere gli Stati Uniti o viceversa viene immediatamente avviata la rappresaglia la risposta il lancio su attacco prevede la risposta solo nel caso di un attacco reale di falsi allarmi ce ne sono stati tantissimi nel corso degli anni e tra i fautori dell'eliminazione delle armi nucleari ci sono coloro che sostengono anche che la proliferazione delle armi nucleari comporta un aumento della probabilità dell'uso per errore di un'arma nucleare credo anch'io che sia difficile immaginare l'uso di un'arma nucleare in maniera sconsiderata non escluderei non è possibile escludere che venga usata un'arma nucleare per errore per falso allarme direi che meglio mi fermi qui in modo che se avete qualche domanda possiamo cercare di rispondervi grazie grazie Francesco vorrei aggiungere che è vero che i fisici hanno inventato la bomba ma sarà determinante il loro luolo nel consentire che le armi vengano smantellate e nel monitorare e controllare che effettivamente un processo di disarmo venga avviato quindi i fisici hanno ancora moltissimo da fare e il loro ruolo per la pace sarà veramente determinante certamente sarà frutto di un'azione politica molto forte la approvazione di una convenzione internazionale per la messa al bando delle armi nucleari ma oltre all'azione politica sarà poi determinante davvero l'azione dei fisici che dovranno tecnicamente spiegare come si fa a disassemblare le armi e stoccarle renderle non riutilizzabili e controllare che ciascuno dei sottoscrittori del trattato effettivamente lo applichi e lo rispetti io devo guardare al futuro con il mio intervento dirò poche cose ma diciamo che il compito che vorrei assolvere è proprio quello di guardare al futuro al che cosa possiamo fare e alla prospettiva in cui possiamo farlo finora abbiamo parlato di una sicurezza fondata sulle armi che ha riguardato essenzialmente gli stati una sicurezza che ha dato origine a questo paradigma anche assurdo della deterrenza nucleare e della distruzione reciproca garantita abbiamo sempre ragionato finora in una logica che riguarda i rapporti internazionali i rapporti tra stati la domanda è ma le persone dove sono e non è una domanda da poco perché è la stessa domanda che origina dalla ICO do intanto il benvenuto all'assessore Chiofalo che si unisce a noi in questo momento dove sono le persone non è una domanda da poco ed è una domanda che prende spunto proprio dalla riflessione sulla icona di Hiroshima ovvero il fungo atomico Costanza all'inizio ricordava la prima delle conferenze che abbiamo fatto qui e che riguardava proprio il modo in cui la narrazione anche iconografica si è sviluppata in questi anni per moltissimi anni ci hanno mostrato soltanto immagini di distruzione che riguardavano le cose poche immagini di distruzione e di sofferenza che riguardavano le persone tutti noi sono immediatamente in grado di riconoscere l'immagine del fungo di Hiroshima pochi di noi si saranno domandati ma le persone dove sono quindi cosa c'è sotto quel fungo ebbene questa domanda ad un certo punto è diventata sempre più impellente ed è diventata impellente soprattutto quando ci si è resi conto drammaticamente che sarebbe stata la popolazione civile la principale vittima della utilizzazione di armi atomiche in un conflitto efficacissimo è secondo me lo slogan che racchiude il senso di una delle campagne internazionali più diffuse di questi anni quella promossa da Major for Peace l'associazione dei sindaci per la pace e questo slogan dice le città non sono bersaglio noi cittadini non dobbiamo essere ostaggio di una logica di deterrenza nucleare che come abbiamo visto lungi dall'assicurare la sicurezza e la pace invece ha cresciuto il rischio di instabilità e per questa ragione che soprattutto a partire dagli anni 90 comincia a avviarsi una riflessione che suggerisce uno spostamento di attenzione un cambiamento di paradigma un cambiamento di approccio al tema della sicurezza dalla sicurezza fondata sulle armi dalla sicurezza che riguarda essenzialmente gli stati nazionali ad una sicurezza invece rivolta alle persone e quindi il concetto il paradigma della sicurezza umana della human security si deve proprio a Kofi Annan allora segretario generale delle Nazioni Unite la istituzione nel 1999 di una commissione per la sicurezza umana la commissione viene materialmente istituita nel 2001 ma è nel 1999 che comincia questa riflessione forte con l'invito a cambiare approccio al tema della sicurezza la commissione viene istituita nel 2001 e la presidenza viene affidata alla signora Sadako Gata che era stata fino a quel momento alto commissario ONU per i rifugiati e affidata altresì ad Marzia Sen economista Nobel per l'economia del 1998 a questa commissione viene affidato il compito di definire che cosa si debba intendere per sicurezza umana questa commissione presenta una relazione finale nel 2003 dal significativo titolo Human Security Now sicurezza umana adesso quali sono i punti salienti di questo rapporto la sicurezza viene definita la sicurezza umana viene definita come la protezione delle libertà fondamentali cioè le libertà che sono l'essenza della vita tra le quali rispettare la diversità e incoraggiare lo scambio reciproco la nuova idea di sicurezza non coincide più con la protezione dei confini e delle istituzioni di uno stato ma è incentrata sulla sicurezza di ogni singola persona non solo la guerra il terrorismo e la violenza diretta minacciano la sicurezza degli uomini esistono anche la violenza strutturale cioè per esempio quella dell'ingiustizia dello sfruttamento e della povertà che costringono a vivere gli individui in una situazione di notevole disagio che venga compiuta esplicitamente alcuna violenza in altre parole la sicurezza umana la sicurezza dell'essere umano è un bambino che non muore una malattia che non si diffonde un lavoro che non viene tolto una tensione etnica che non degenera in violenza un dissidente che non viene fatto tacere la sicurezza dell'essere umano non è qualcosa che ha a che fare con le armi è qualcosa che ha a che fare con la vita e la dignità dell'essere umano e ancora per usare per usare le parole di Sadako o Gata sicurezza umana significa essere liberi dalla paura di essere uccisi perseguitati o vittime di abusi liberi dalla miseria che porta umiliazione e disprezzo per se stessi liberi di scegliere dal momento che le minacce alla sicurezza nazionale e internazionale provengono più da fattori interni che da attacchi esterni è importante spostare l'attenzione dalla sicurezza degli stati a quella delle persone ora vedete bene che in questa prospettiva il concetto di disarmo nucleare è certamente fortemente legato al tema della sicurezza umana ed è soprattutto un atto che obbedisce ad un imperativo umanitario nel 2011 un evento molto significativo dal punto di vista dell'impegno dei soggetti che a livello internazionale si stanno decisamente schierando per un processo di disarmo nucleare che venga avviato il più rapidamente possibile si segnala l'intervento della Croce Rossa internazionale la Croce Rossa internazionale ha nel 2011 presentato un documento sulle conseguenze umanitarie dell'uso delle armi nucleari un rapporto che ruota intorno ad un concetto molto semplice ma terribile nella sua essenzialità nessun sistema sanitario in nessun paese nel mondo è in grado di affrontare l'emergenza umanitaria che si verificherebbe nel caso di utilizzazione di armi atomiche nessun sistema sanitario in nessun paese del mondo e da quel momento la Croce Rossa internazionale ha intrapreso delle azioni molto forti proprio per portare al centro del dibattito internazionale proprio il tema della sicurezza umana il tema della catastrofe umanitaria dunque le città non sono bersagli dunque al centro della sicurezza ci deve essere l'attenzione per le persone il soddisfacimento dei bisogni il rispetto dei loro diritti ma questo spostamento di paradigma e cioè questo spostare l'attenzione da una sicurezza relativa alla sicurezza degli stati ad una sicurezza delle persone implica anche una assunzione di responsabilità da parte delle persone se le città non sono bersagli significa anche che noi per primi come cittadini dobbiamo farci carico della nostra sicurezza questo con azioni che sono azioni apparentemente piccole ma che possono sollevare una grande ondata di opinioni e svolgere un'opera di condizionamento politico forte all'inizio Tiziano ricordava il concetto di diplomazia parallela la diplomazia parallela è ormai qualcosa che ha grande dignità a livello scientifico e a livello internazionale cosa si intende per diplomazia parallela o diplomazia del secondo binario si intende una diplomazia affidata alla azione di soggetti che non sono soggetti istituzionali nel senso di soggetti a cui normalmente sono affidate le relazioni politiche le relazioni internazionali ma che svolgendo un'azione di sensibilizzazione un'azione a livello nel quale questi soggetti operano e possono essere sia individui sia associazioni associazioni di professionisti associazioni impegnate dal punto di vista dei diritti civili eccetera possono anche aiutare a sbloccare situazioni di stallo che spesso si realizzano a livello di relazioni internazionali da questo punto di vista siamo tutti soggetti diplomatici nel senso che tutti siamo in grado di dare un contributo ad una azione che vada nel senso del disarmo e nel senso di una promozione della sicurezza umana voglio uscire dalla genericità che potrebbe apparire e che potrebbe trasparire da questi discorsi per richiamare azioni concrete di diplomazia parallela certamente la campagna senza atomica di cui avete sentito parlare la quale abbiamo appunto parlato in questa occasione ma a livello internazionale si è creata una grande coesione tra cittadini e organizzazioni impegnati sul tema del disarmo due anni fa a settembre a Ginevra c'è stata una conferenza organizzata da ICAN che è una campagna di campagne una campagna che raccoglie le varie campagne che a livello internazionale sono impegnate su questi temi e lì c'è stato un confronto uno scambio di buone pratiche una articolazione di un dibattito volto ad individuare quali potessero essere gli strumenti concreti di azione della società civile ciascuna al proprio livello a livello dell'azione in cui ciascuno di noi può fare qualcosa all'inizio di marzo a Oslo ci sarà un altro incontro promosso da ICAN per individuare quelle che sono le azioni di sollecitazione politica che potranno essere fatte in maniera tale che la base dei cittadini possa sollecitare concretamente l'assunzione di decisioni politiche la più grande di queste decisioni sarà la aduzione di una convenzione internazionale per la messa al bando delle armi nucleari una convenzione uno strumento internazionale la cui importanza si capisce sol che si rifletta su un dato apparentemente paradossale in nessun testo normativo in nessuno strumento internazionale in nessun trattato è scritto che è vietato usare un'arma nucleare è scritto che è vietato minacciare l'uso di armi nucleari qual è il senso di una convenzione di questo genere non quello di punire coloro che eventualmente utilizzassero un'arma atomica perché vedete bene che gli effetti sarebbero talmente devastanti che probabilmente non ci sarebbe più nessuno in grado di punire nessuno in grado di essere punito ma una convenzione che renda illecito l'uso la minaccia d'uso lo stoccaggio l'assemblaggio eccetera di armi nucleari in quel momento stesso porrebbe in una situazione di illegalità il possesso di armi nucleari e quindi imporrebbe azioni concrete per il loro smantellamento e qui entrerebbero appunto in gioco nuovamente i fisici per poter garantire e controllare che effettivamente queste azioni vengono poste in essere e che gli impegni vengono rispettati in tutto questo noi abbiamo comunque un ruolo che è quello di farci carico della nostra sicurezza capire veramente che cosa significa sicurezza umana che non deve essere più una sicurezza affidata alle armi e soprattutto ad armi di distruzioni di massa è un problema di responsabilità e da questo punto di vista credo che un filosofo tedesco del dopogroerra come Gunther Anders rappresenti veramente il punto più alto della riflessione su questi temi perché chiama tutti noi alla assunzione di responsabilità afferma infatti Gunther Anders per quanto confuso possa essere stato finora il problema dell'imputazione il vero problema della colpa comincia soltanto ora perché ora sappiamo che cosa significa la bomba per quanto innocenti si possa essere stati sinora ora si diventa colpevoli se non si aprono gli occhi a coloro che non vedono ancora se non si fanno rintronare le orecchie a coloro che non capiscono ancora la colpa non sta nel passato ma nel presente e nel futuro non soltanto gli eventuali assassini sono colpevoli ma anche noi gli eventuali morituri e per questo che è porsi con serietà il problema del disarmo nucleare il problema della sicurezza umana significa assumersi una responsabilità importante una responsabilità nei confronti della nostra vita ma anche una responsabilità nei confronti delle generazioni future questo può sembrare un compito troppo grande per le nostre singole piccole vite ma non è assolutamente così è proprio per questo che mi piace concludere con un proverbio cinese che amo molto e che dice una quercia che cade fa molto rumore ma una grande foresta cresce in silenzio noi siamo la foresta che cresce io ora aprirei il dibattito spero che ci siano domande magari possiamo fare prima raccoglierne un certo numero in maniera che poi si possa rispondere anche eventualmente collegando le risposte vorrei vorrei una domanda al professor Lenci mi è perso più o meno di capire dopo la fine della guerra fredda quale possa essere il nuovo scenario strategico per le armi per appunto strategiche quali sono le dottrine per i pochi paesi che le possiedono di utilizzo invece di armi nucleari tattiche vogliamo accogliere qualche domanda sono molto schematico e molto rapido le armi nucleari tattiche non servono assolutamente a niente quando negli anni 80 furono installati i kruz e i pershing 2 in europa occidentale l'obiettivo era quello di poter raggiungere il territorio dell'unione sovietica in modo che la risposta dell'unione sovietica fosse non sulle città europee ma sugli stati uniti perché se fosse stata attaccata sul proprio territorio l'unione sovietica avrebbe risposto sugli stati uniti quindi quelle armi nucleari tattiche che sono poi state smantellate dopo il 1987 avevano il solo scopo di far di innescare immediatamente un escalation da uno scenario europeo da una ipotetica situazione nella quale si usavano le armi nucleari tattiche a quella realistica nella quale si usano le armi nucleari strategiche non ci crede nessuno alla possibilità di usare armi nucleari tattiche ci sono stati esempi durante la guerra in Corea durante la guerra in Vietnam alcuni militari pensavano che fosse il caso di usare mine atomiche o armi nucleari ma non sono mai state date le autorizzazioni e il fatto che dal 45 non siano mai state usate armi nucleari da paesi che posseggono armi nucleari anche in momenti difficili di sconfitta l'unione sovietica in Afghanistan negli Stati Uniti in Corea e in Vietnam sta a dimostrare la consapevolezza dell'inutilità dell'arma nucleare come strumento militare l'arma nucleare è un è uno strumento politico e fino a che non si raggiunge quella che accennavo prima essere la svalutazione del ruolo politico delle armi nucleari non si fanno passi avanti sulla via del disagio al professore di relazioni internazionali ci chiedevamo se mi chiedevo se è necessario erodere quella sovranità statale che fino a questo momento la dottrina il pensiero politico ha immaginato ha ideato e creare un ente sovranazionale per garante della sicurezza comune per pensare a un lungo periodo di stabilità durante e post la fase del disarmo nucleare se in sostanza questa garanzia questa sicurezza internazionale comune veda necessariamente la creazione di questo organismo internazionale di questo ente sovranazionale federale per garantire appunto una sicurezza alle persone e agli stati in sostanza non so se è chiaro chiarissimo qualcuno ha riassunto il senso della sua domanda dicendo che nel lungo periodo la continuazione degli stati nazionali e delle armi nucleari non sono compatibili cioè la presenza delle armi nucleari o aboliamo le armi nucleari e teniamo gli stati nazionali ma o se vogliamo continuare a immaginare un mondo che viva con la presenza delle armi atomiche ci vuole una sorta di governo mondiale cioè nel lungo periodo la esistenza parallela di stati nazionali dotati di armi nucleari rappresenta un pericolo inaccettabile storicamente c'è stato un timido tentativo di andare alla radice del problema ed è stato nel 1946 quando appena creata l'organizzazione delle Nazioni Unite si è creata una commissione che doveva ipotizzare una gestione da parte dell'ONU di tutte le risorse di materiale fissile e quindi di sovranazionalizzazione se vogliamo della ricerca nucleare militare e della tecnologia nucleare militare è la storia del famoso rapporto Acheson-Lilienthal che è il primo piano se vogliamo di volto a porre sotto un'autorità internazionale le armi atomiche è una storia controversa perché nella primissima formulazione quella appunto di Acheson e Lilienthal l'amministrazione Truman sembra disposta a lavorare seriamente in questa direzione quando poi per motivi di politica interna il piano preparato da Acheson e Lilienthal viene messo in mano a un politicante molto più incline a tutta una serie di compromessi che Bernard Baruch diventa ufficialmente il piano presentato agli Stati Uniti all'ONU il piano Baruch in realtà lo si concepisce in maniera tale da renderne quasi inevitabile il fallimento cioè la storia di questo primo e unico tentativo di dar vita ad una organizzazione internazionale sotto l'egera dell'ONU che gestisse la tecnologia nucleare militare è la storia di un fallimento dopodiché ci troviamo di fronte al dilemma a cui accennava lei io non credo francamente nella possibilità di un governo mondiale o di una federazione da un punto di vista logico ha perfettamente senso quello che lei dice ho qualche dubbio persino sulla capacità dell'Unione Europea di dar vita ad una struttura federale in tempi brevi men che meno di una struttura federale o di un governo federale mondiale quindi se vogliamo sciogliere il dilemma come far coincidere la sopravvivenza degli stati nazionali con la presenza delle armi nucleari la risposta è quella di lavorare per il disarmo e cercare di ridurre quanto più possibile la consistenza degli arsenali nucleari dal momento che è difficile immaginare la scomparsa degli stati nazionali nonostante ci sia tutta una corrente teorica che mira ad affermare come ormai lo stato nazionale sia un relitto del passato francamente mi sembra che a tutt'oggi non abbia questa fretta di scomparire volevo chiedere al professor Nuti ammacchiarsi del peccato originale dell'atomica sono stati gli Stati Uniti l'unico paese che ne ha fatto effettivamente uso e che ha dato quindi una risposta definitiva a uno dei postulati che ha annunciato che stanno alla base del principio di deterrenza nel senso che loro sono perfettamente in grado di usarla e non semplicemente di tenerla con lo scopo di fermare una possibile guerra ecco in questo senso gli Stati Uniti poi sono anche un paese che è dotato militarmente molto capace e che ha anche molti nemici non crede che per arrivare a un totale disarmo non siano proprio gli Stati Uniti a dover muovere il primo passo che da un certo punto di vista possono essere supposti anche più razionali come diceva prima la razionalità rispetto ad altri leader di altri paesi come può essere l'Iran ad esempio e che quindi senza un primo passo definitivo degli Stati Uniti questo scopo non sia raggiungibile e poi una seconda domanda collegata a questa mi sembra di io non sono un esperto però mi sembra che si sia persa una grande occasione con la fine della guerra fredda per agire in modo tempestivo e arrivare ad un disarmo perché se si fosse fatto precedentemente forse oggi non ci sarebbero i problemi legati a questi nuovi paesi che si stanno dotando di armi nucleari e se si continua così se sempre più paesi cercano di dotarsi di queste armi sembra quasi una battaglia persa in partenza e dato che la probabilità di un'eventuale guerra nucleare è sempre non zero come diceva il professore di questo passo prima o poi si arriverà per forza a questa conseguenza spero che non sia così inevitabile come sostiene lei non c'è dubbio che gli Stati Uniti abbiano una sorta di responsabilità morale nel aprire la strada in questa direzione e è la logica che in parte ha cercato di sostenere l'amministrazione Obama quando il famoso discorso di Praga nel 2009 Obama ha parlato apertamente di un mondo libero ad armi nucleari e un gruppo di studiosi americani ha lanciato poi l'idea del global zero cioè l'abolizione globale di tutte le armi atomiche sia la società civile sia la componente istituzionale degli Stati Uniti ha fatto proprio questo obiettivo dopodiché credo che il percorso sia inevitabilmente lento e molto graduale sarà interessante vedere quello che sarà in grado di fare Obama nella seconda amministrazione perché di solito un presidente nel secondo mandato si ritiene più libero di agire perché non ha più il problema di essere rieletto nel primo mandato Obama ha firmato quel trattato che per comodità viene indicato come il nuovo start con la Russia per ridurre ulteriormente il numero delle testate operative diciamo dei segnali incoraggianti ci sono stati lo diceva anche prima il professor Lenci sicuramente c'è stata un'inversione di tendenza rispetto agli anni dell'amministrazione Bush temo che per quello che riguarda il processo politico interno degli Stati Uniti questo non possa essere che un cammino estremamente lento non ci si possono immaginare gesti eclatanti che avrebbero scarsa possibilità di successo basta vedere quello che è successo con il Comprehensive Testament Treaty l'amministrazione Clinton l'ha proposto è stata tra le prime a firmarlo e poi il Senato ne ha bloccato la ratifica e quel testo è in attesa della ratifica da 1900 il trattato è stato firmato nel 96 sottoposto alla ratifica mi sembra nel 99 è ancora lì è il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari accennare a questo trattato mi permette di passare alla sua seconda domanda si è persa un'occasione con la fine della guerra fredda sì non c'è dubbio è vero che con la fine della guerra fredda ci sono stati due trattati start del luglio 91 e del gennaio del 93 che hanno sensibilmente ridotto la presenza degli armi nucleari è vero che nel 90 se non mi sbaglio la Nato decide di ridurre drasticamente la presenza del numero delle armi nucleari tattiche in Europa dalle varie migliaia schierate negli anni precedenti fino alle attuali 150 circa il numero esatto non è mai dato saperlo quindi c'è stato un brusco calo ma non c'è stata una scomparsa totale e non c'è stata una scomparsa totale anche perché proprio nel momento in cui le due superpotenze sfruttavano diciamo il movimento inerziale della fine della guerra fredda in realtà si cominciava a capire che il mondo poteva non essere così sicuro come lo si pensava la scoperta drammatica che viene fatta all'indomani della guerra del golfo è quando gli ispettori della IAEA e dell'UNSCOM della commissione speciale delle Nazioni Unite si accorgono che il programma nucleare iracheno era molto più avanzato di quanto chiunque sospettasse perché gli iracheni si erano immaginati una serie di percorsi per arrivare a dotarsi di un'arma atomica diversi da quello che gli altri gli osservatori si immaginavano che gli iracheni avrebbero potuto seguire in maniera tale da stupire se vogliamo la comunità internazionale cioè nel 1991 ci si rende conto che l'Iraq era arrivato molto più vicino alla soglia atomica di quanto si sapesse di lì a un paio d'anni scoppia il caso nordcoreano si pone il problema di come gestire lo smantellamento dell'Unione Sovietica gli stati nucleari o meglio le repubbliche ex sovietiche Kazakistan Bielorussia Ucraina devono liberarsi delle armi nucleari in loro possesso e fare sì che l'unico Stato a ereditare lo status nucleare dall'ex Unione Sovietica sia la Federazione Russa questo negoziato è relativamente indolore ma per esempio l'Ucraina a un certo momento non mostra tutta questa fretta di liberarsi del suo arsenale nucleare probabilmente perché vuole utilizzare la cessione di quello che è rimasto sul suo territorio per ottenere delle garanzie o dei vantaggi nel suo rapporto con la Federazione Russa in altre parole il mondo post-guerra fredda mostra dei pericoli di proliferazione più inquietanti di quanto ci si potesse immaginare e questo rafforza quelle tendenze all'interno del meccanismo politico americano del corpo politico americano che frenano sull'adozione di un percorso di disarmo più intenso come probabilmente l'amministrazione Clinton sarebbe stata intenzionata ad adottare proprio perché la logica che sembrava affermarsi era che invece nel mondo post-bipolare questi strumenti di distruzione di massa stessero rapidamente perdendo quel valore politico militare che forse avrebbero avuto durante la guerra fredda però storicamente non è andata così e non è andata così per una serie di concatenazioni diciamo da un lato la presenza di nuove inaspettate fonti di tensione sul piano internazionale dall'altro l'effetto che queste minacce hanno avuto su quella parte del corpo politico americano che era comunque riluttante a disfarsi del proprio arsenale quando si arriverà al dibattito sul Comprehensive Testament Treaty i repubblicani che nel frattempo hanno avuto la maggioranza al congresso a partire dal 94 riterranno che persino una messa al bando totale degli esperimenti indebolisca la capacità americana di difendersi dalle nuove minacce solo sottolineare ulteriormente un'osservazione che faceva il professor Nuti Obama ha dedicato circa quattro righe del suo discorso all'unione ai problemi dell'Islam e questo perché la situazione politica interna degli Stati Uniti rende estremamente difficoltoso l'impegno di Obama per la riduzione degli azionali nucleari in un paese che ha scoperto una sua vulnerabilità sostenere che le iniziative a favore della riduzione degli azionali nucleari mette in forza la sicurezza del paese corre il rischio di essere uno strumento di grandissimo potere persuasivo il fatto sta che il comprehensive test ben è infermo e che io sono fiducioso no speranzoso sì dopo che è stato eletto Obama dichiarare che il best diretto come speriamo che questo sia vero anche per quanto riguarda il design ciao e vorrei fare una domanda al professor Pellecchia allora lei ha parlato di diplomazia parallela e quindi sarebbe praticamente la presa di coscienza di noi cittadini che dobbiamo preoccuparci della nostra sicurezza quindi le vorrei chiedere cosa consiglia lei qual è il suo consiglio per incoraggiare noi cittadini per primi a capire che noi siamo alla base di questo movimento di questa diplomazia per il disarmo poi alla fine mondiale quindi questa è la mia domanda grazie per questa domanda la risposta potrebbe essere è quello che già sta facendo lei oggi avendo partecipato a questa conferenza un'azione concreta diplomazia parallela è quella che porta avanti ad esempio il Pagwash quello che portano avanti l'USPID ovvero associazioni di scienziati impegnati per il disarmo che nel dialogo con altri scienziati quindi a loro livello nel contesto in cui operano cercano di promuovere un dialogo un dibattito soprattutto un dialogo animato dal sincero desiderio di capire il punto di vista dell'altro noi come cittadini dobbiamo prima di tutto capire di che cosa stiamo parlando allora il tema delle armi nucleari è completamente sparito dal dibattito ci sono stati anni in cui questo tema è stato molto presente perché la minaccia sembrava particolarmente vicina e dunque questo ha sollecitato movimenti di protesta reazioni eccetera poi il tema si è completamente assubito il dibattito si è assubito e in questa situazione opaca e di mancanza di trasparenza molte cose sono invece andate avanti sul piano della proliferazione nucleare come cittadini noi possiamo prima di tutto informarci e dunque partecipare a iniziative come questa approfondire lo studio partecipare a visitare le occasioni di sollecitazioni e di riflessione come per esempio ripeto questa mostra senza atomica oppure nel nostro contesto promuovere delle azioni di riflessione la presentazione di un libro con un dibattito la organizzazione di un cireforum con organizzazione poi di un dibattito sono tutte azioni che nella prospettiva di un dibattito serio di una conoscenza seria di questa tematica possono far crescere la consapevolezza e indurre poi all'azione il concetto chiave in questa prospettiva ed è un concetto che affianca il concetto di diplomazia parallela è il concetto di empowerment ovvero diventare consapevoli del nostro potere scardinare quel luogo comune che ci vuole vittime della storia semplici pedine sul panorama internazionale non è così noi possiamo il fatto che noi possiamo è dimostrato dal fatto che ci sono storie di successi a cui possiamo fare riferimento la campagna per la messa al bando delle mine anti uomo delle bombe a grappolo che sono poi campagne che sono culminate nella approvazione di strumenti internazionali sono uno splendido esempio di campagne che sono partite dal basso appunto dal livello dei cittadini comuni c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo quando ho iniziato a studiare questi temi ed è proprio la vicenda che ha portato poi all'inizio di questa grande campagna per l'abolizione delle mine anti uomo ed è una storia che inizia da una operaia di Brescia da una donna operaia nella fabbrica della Valsella che era appunto ahimè nota a livello internazionale proprio per la produzione di questi ordigni terribili e vigliacchi soprattutto perché continuano a offendere e mutilare anche a distanza di anni di molti anni dal anche quando è venuto meno sono venute meno le ragioni che ne avevano determinato la utilizzazione ebbene ad un certo punto questa operaia avvia una riflessione personale sul fatto che per garantire la propria sopravvivenza attraverso un lavoro e per garantire la sopravvivenza dei propri figli lei stava sostanzialmente producendo degli ordigni di morte da questa riflessione di un singolo di una donna parte una onda che si è poi diffusa nella fabbrica in cui questa donna lavorava poi è diventata una campagna nazionale poi è cresciuta è cresciuta è cresciuta fino poi a culminare appunto nella approvazione di una convenzione internazionale quindi queste cose possono succedere diventare consapevoli del nostro potere è il passaggio fondamentale il fatto che questo potere esista ed è un potere che può essere esercitato e peraltro anche dimostrato da quello che ci dicono gli stessi politici allora la solitudine del palazzo è una cosa di cui spesso parlano i politici che sarebbero favorevoli ad azioni concrete per il disarmo nucleare e questo è un tema molto sentito da una delle associazioni che sono state richiamate prima e cioè i parlamentari per la non proliferazione nucleare questa è una rete internazionale di parlamentari appartenenti a vari schieramenti politici quindi con orientamenti politici differenti che però hanno costituito appunto una rete internazionale in cui cercano al loro livello che è quello politico di portare avanti azioni concrete per il disarmo e ho spesso sentito dire ad alcuni di questi politici noi sentiamo la solitudine di coloro che non hanno alle spalle un movimento di opinione forte nel momento in cui dovessimo avere questo segnale forte dall'opinione pubblica questo segnale forte dai cittadini noi ci sentiremmo maggiormente incoraggiati a compiere delle azioni concrete e da questo riguardo c'è un episodio che è una battuta che è rimasta nota e che fu una frase pronunciata dal presidente Kennedy all'indomani dell'approvazione del trattato per la messa al bando parziale dei test nucleari una scelta che riscosse un grandissimo successo una grandissima approvazione a livello di opinione pubblica e Kennedy disse se l'avessi saputo prima avrei compiuto questa azione avrei compiuto questo avrei fatto questa scelta molto prima ecco dobbiamo da questo punto di vista avere veramente fiducia nel fatto che possiamo fare qualcosa del resto la campagna senza atomica si muove proprio in questa direzione noi come cittadini comuni prendiamo consapevolezza e promuoviamo un dibattito che sia il più possibile serio e rigoroso su questi temi e svolgiamo un'azione di sollecitazione rispetto agli elementi di governo del territorio che sono quelli a noi più vicini ovvero il comune la provincia le regioni comuni province e regioni che a loro volta avendo alla spalla un forte consenso da parte dei cittadini si rendono poi promotori di una azione presso il governo nazionale e poi così via a livello internazionale eccetera questo tipo di strategia è stata peraltro messa a punto in occasione di un incontro che c'è stato a Roma Daniele aiutami a ricordare l'anno era il 2012 giugno 2012 no giugno 2011 in cui è stata sottoscritta una carta di intenti la cosiddetta carta di Roma che raccoglie quello che sono appunto le determinazioni di soggetti della società civile prevalentemente delle società civile che stanno unendo i loro sforzi a livello italiano per farli convergere in un'unica direzione l'obiettivo qual è? quello di poter svolgere a livello del governo a livello della presidenza della repubblica una forte azione di sollecitazione affinché poi il decisore politico si renda a propria volta promotore di azioni politiche il fatto stesso che il comune di Pisa peraltro per una sensibilità straordinaria e questo lo dico senza nessun atto di piageria nei confronti dell'assessore Chiofalo che è presente che non a caso è un fisico ci terrei a sottolineare ha compiuto un'azione in questo senso la approvazione di una mozione di adesione alla campagna senza atomica e con questa mozione il sindaco e il consiglio comunale si impegnano a rendersi a loro volta promotori di azioni presso i livelli superiori dal punto di vista politico la regione toscana ha aderito alla campagna la provincia di Pesaro ha aderito alla campagna ci aspettiamo molto dalla città di Milano nella quale la mostra senza atomica sarà allestita dal 9 al 29 marzo quindi è a livello del luogo in cui ciascuno di noi vive e opera che si può avviare un'azione di sensibilizzazione che deve essere però ripeto io a questo ci tengo moltissimo un'azione di sensibilizzazione fondata sulla conoscenza non fondata sugli slogan non fondata su frasi ad effetto ma fondati sulla conoscenza del problema io mi sono cominciata ad occupare di questi temi da pochi anni e la sensazione immediata che ne ho tratto è stata quella di una profonda indignazione ho pensato per tutti questi anni mi hanno preso in giro nel senso che decisioni che riguardavano la mia vita sono state prese sopra la mia testa senza che non potessi fare assolutamente nulla allora è questo che il risultato a cui porta la conoscenza il fatto di dire adesso basta la mia vita è una cosa talmente importante che devo essere io a decidere e ripeto in questo noi ci assumiamo soprattutto una responsabilità grandissima nei confronti delle generazioni successive e io credo che questo anche solo questo sia sufficiente a dare il senso a tutta una vita e dunque confido nel fatto che questa onda possa crescere anche passando dalla conferenza di oggi posso aggiungere solo due parole a quello che diceva la professoressa per quello che vi riguarda la prima cosa che potete fare è studiare scusatemi il tono da vecchio professore ma capire la complessità di questi problemi è un compito straordinariamente difficile e non ci sono slogan o soluzioni facili per problemi difficili non credete mai a chi vi racconta che i problemi complessi si risolvono in due parole sono temi e problemi su cui si sono scornati alcuni dei cervelli migliori della nostra epoca e la riflessione e lo studio sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per cercare di trovare delle soluzioni una delle conferenze più interessanti che ho sentito negli ultimi anni era quella di un professore americano David Holloway che fa parte di questo movimento Global Zero il quale spiegava come all'interno di Global Zero si stanno immaginando come fare per arrivare a un mondo libero d'armi nucleari che diceva bene ce ne liberiamo allora come si fa le buttiamo tutte in mare diciamo da oggi in poi sono illegali quindi ce le leviamo di torno e allora quali sono i passi concreti che si possono mettere in pratica per rendere credibile un'ipotesi di questo genere ne riduciamo la frontezza operativa le mettiamo tutte dentro una caverna separiamo la testata dal vettore ma lo facciamo contemporaneamente tutti quanti perché nessuno abbia la sensazione di avere un margine di vantaggio sono problemi di una complessità straordinaria che si possono affrontare soltanto studiando per questo mi sento di rafforzare l'invito della professoressa a non fidarsi degli slogan di rafforzare sul sito senza atomica oltre al bellissimo panflete che avete da un punto di vista scientifico è effettivamente una delle prime pubblicazioni mi sento di dire in Italia che racchiude un po' tutto questo tema proprio come inizio approfondimento ma anche sul sito senza atomica c'è una sezione apposta dove trovate approfondimenti e una sezione che si chiama campagna nella quale potete in qualche modo ispirarvi a vedere gli oltre 200 eventi che fino a ora sono stati organizzati dalle conferenze a altri tipi di iniziative tutte insomma meritevoli questo era un invito che volevo fare all'approfondimento salve io vorrei riallacciarmi alla domanda che è stata fatta proprio all'inizio ovvero perché non si ha più paura tanto degli armamenti atomici perché noi non percepiamo questo timore una delle magari una delle riflessioni che si possono fare essenzialmente perché appunto il dibattito pubblico o tramite i media non c'è più quell'urgenza o quella voglia appunto di rendere coscienti le persone quanto più possibile in sostanza ma anche perché forse come come si potrebbe pensare è per noi normale vivere all'interno di un mondo essenzialmente tecnologico cioè i filosofi stessi filosofi contemporanei hanno postulato l'idea del posto umano ovvero di quell'essere umano ormai abituato all'interno di un mondo tecnologico tanto da non poterne più fare a meno e quindi insomma gli armamenti nucleari costituirebbero una parte se non la più importante una delle più incisive della propria vita tanto da non metterla in discussione ecco e quindi perché mai averne paura se poi fra l'altro questo intero sistema tecnologico ci consente di vivere o crede di farci vivere nella maniera più sicura possibile fra l'altro lo stesso Anders se non ricordo male postulava l'idea dell'obsolescenza umana nei confronti delle tecnologie ovvero la tecnologia che superava l'uomo era migliore dell'uomo perfetta addirittura quindi l'uomo risultava di gran lunga inferiore di un livello maggiormente inferiore questo perché appunto l'ideologia che permea tutta la tutta la tecnologia nella quale noi siamo immersi è fondamentale e ci permette di vivere in una certa maniera e costituisce diciamo il perno fondamentale concettuale che intorno al quale ruota la nostra sicurezza ecco oggi quindi forse mettere in discussione in cominciare a pensare che non è tanto poi così normale vivere in un mondo fatto in questa maniera potrebbe potrebbe stimolare potrebbe potrebbe aiutare ecco non sono sicuro di avere seguito fino in fondo il suo ragionamento ma la sua conclusione mi porta a ricordare che in questo mondo tecnologico in questo mondo di relativo benessere per una grande parte dei suoi abitanti ci sono 925 milioni di esseri umani che soffrono la fame 146 milioni di bambini che soffrono la fame che si è speso nel 2011 1738 miliardi di dollari per gli armamenti circa la metà di questa cifra è stata spesa dai soli Stati Uniti mi pare che questi numeri se ne potrebbe dare di altri di numeri sulle condizioni di sofferenza di tanti abitanti di questo pianeta mi pare che questi e altri numeri che adesso non cito non ricordo possono essere legati a una dichiarazione di di Mohamed Albaradei Mohamed Albaradei era il direttore dell'Agenzia internazionale di Vienna per l'energia atomica ed ebbe il premio Nobel per la pace nel 2005 e concluse la sua conferenza in occasione dell'attribuzione del premio Nobel con queste parole immaginate cosa accadrebbe se le nazioni del mondo spendessero per lo sviluppo tanto quanto spendono per costruire macchine da guerra immaginate un mondo nel quale ogni essere umano potesse vivere in libertà e con dignità immaginate un mondo nel quale noi versassimo le stesse lacrime quando un bambino muore nel Dalfour o a Vancouver immaginate l'eredità che potremmo lasciare ai nostri figli io credo che quell'attenzione che mi pare fosse un invito alla fine del suo intervento dovremmo davvero averla tutti non perché abbiamo paura delle armi nucleari non perché siamo alle soglie dell'olocausto nucleare ma perché abbandonare quelle strade vuol dire imboccare strade diverse che altrimenti non si possono imboccare e credo che il grande merito di 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 atomica sia quello di riuscire a a mettere insieme eh l'usare la testa l'usare il cervello l'usare la conoscenza e usare anche il cuore i sentimenti le aspirazioni meno che più pudicamente debbono essere tenute dentro di noi e si accennava prima a a cosa si può fare e sono perfettamente d'accordo con Leopoldo Nuti studiare studiare cercare di capire e un'occasione per cercare di capire dal 1985 l'unione scienziati per il disarmo la offre ogni due anni organizzando un convegno internazionale a Castiglioncello si terrà quest'anno alla fine di settembre poi informerò Costanza e gli altri ragazzi della scuola l'obiettivo di questi incontri è esattamente quello che diceva prima Enza mettere a disposizione le conoscenze che chi si occupa di questi problemi ha mettere a disposizione dell'opinione pubblica del mondo politico dei giornalisti sottolineando che nel 1985 quando c'erano gli aeromissili installati in Europa l'attenzione del mondo politico e dei mezzi di informazione era altissima dal 91 in poi buona parte dell'opinione pubblica e anche dei mezzi di informazione ha concluso che ormai era finita la guerra fredda e i problemi per la pace e la coesistenza pacifica non esistevano più cosa che come ben sapete non è affatto vero pietro greco è un giornalista scientifico di grandissima cultura e un appassionato rigoroso sostenitore delle iniziative volte a favorire la pace e la coesistenza pacifica ha scritto un libro su Einstein e presenterà questo libro alla limonaia il 13 di marzo e quando sarà pronta la locandina della limonaia la mando a costanza con la preghiera di farla circolare fra di voi grazie dunque io volevo insomma oltre a naturalmente essere grata a a tutte ai relatori alle relatrici e a tutti voi per questa giornata però io volevo andare un attimo oltre sulla questione della partecipazione di che cosa si può fare prima di dire di esprimere di condividere con voi questo pensiero volevo però anche mettere un attimo l'accento e sottolineare su un concetto che ha espresso la professoressa Pellecchia e che è stato quello che quando ho avuto l'opportunità di visitare la mostra senza atomica proprio insieme a Densa è quello che per primo e più di tutti gli altri mi ha colpito ed è proprio il concetto di sicurezza cioè questo cambiamento mentale e concettuale rispetto a come intendere la sicurezza era qualcosa che mi girava nella testa rispetto al quale giravo intorno e lì è stato veramente emerso con una chiarezza straordinaria ed è quella che oggi ha riportato la professoressa Pellecchia però al di là di questo volevo spingere ancora oltre sulla questione della partecipazione io mi sono ritrovata riportando una mia esperienza personale io ho trovato me stessa ad avere l'opportunità di contribuire a dei cambiamenti collettivi e mi sono trovata in questa situazione sia agendo dall'esterno rispetto a situazioni istituzionali in particolare lavorando all'interno di un'associazione questa è un'associazione di donne che si occupava della che si occupa tuttora della della maternità naturale sia mi sono trovata a fare dei cambiamenti all'interno di istituzioni che è un altro motivo per cui secondo me è importante conoscere studiare apprendere perché in particolare i ragazzi e le ragazze che sono qui in questa sala hanno delle ottime possibilità di essere poi una parte importante di chi prenderà delle decisioni politiche non necessariamente in diciamo di politica di governo del generale ma anche potreste essere decisori politici all'interno del mondo universitario che non è un bel pezzo una bella parte del nostro paese io mi sono trovata in tutte le due le situazioni come si possono cambiare le cose come si possono operare dei cambiamenti meglio dall'esterno e meglio dall'interno allora io alla fine dopo aver fatto queste due esperienze sono arrivata alla conclusione che si può fare in tutti e due i modi e il modo per farlo è in realtà ogni volta pensare alle questioni che non ci stanno bene che vorremmo cambiare pensare a quelle questioni lì come se noi in quel momento fossimo parte di un processo vero e proprio un processo reale decisionale come se noi in quel momento avessimo la possibilità e tutti gli strumenti attorno per poter operare quel cambiamento cioè vorrei eliminare le armi nucleari bene dalla faccia della terra bene se io fossi Obama se io fossi il presidente o la presidente del consiglio italiano se io fossi non lo so se io avessi la possibilità nel senso se fossi nelle più alte sfere decisionali che cosa materialmente farei sia perché in quella condizione lì ci si potrebbe trovare sia perché ragionare e mettersi nelle condizioni di chi effettivamente poi può fare delle cose ci permette di capire quali sono le conoscenze che dobbiamo acquisire quali sono gli strumenti come prima veniva detto che dobbiamo acquisire per potere gli strumenti di analisi di contesto gli strumenti di anche insomma di percorso per tendere ad un obiettivo che sembra irraggiungibile ma che può essere raggiunto attraverso una serie di step ecco qual è la pianificazione che io farei questo ci consente di avere una partecipazione reale cioè una partecipazione consapevole come diceva prima Enza e poi ci consente anche di capire attraverso anche la conoscenza del funzionamento delle istituzioni e quindi di quali sono i processi che vengono iniziati di rendere la nostra partecipazione più efficace e più efficiente per fare in modo che poi quei processi reali vengano effettivamente iniziati questo se non siamo dentro le istituzioni poi può anche capitare che siamo dentro le istituzioni allora a quel punto ovviamente varrà ancora maggior ragione il fatto di conoscere e di avere una sensibilità di essersela costruita nel tempo questo per dire che ognuno di noi può veramente fare tantissimo in qualunque condizione si trovi a maggior ragione quindi grazie a Costanza e agli allievi e agli elevi della scuola normale perché anche occasioni come queste sono molto molto importanti bene in conclusione è il mio desiderio a nome del forum degli allievi ringraziare moltissimo l'assessore Chiofalo per la sua entusiastica adesione alla campagna so che il tempo per le domande non è mai sufficiente purtroppo dobbiamo interrompere qui ringrazio molto calorosamente i nostri relatori anche perché il peculiare articolarsi dei loro interventi ha dato conto di competenze diversificate perché abbiamo avuto uno storico una giurista e un fisico ma devo dire che è stato un esperimento fortunato con dei risultati particolarmente interessanti quindi li ringraziamo con particolare gratitudine grazie a tutti per la vostra partecipazione io volevo soltanto dire che chiaramente rimaniamo a disposizione per qualsiasi contatto chiarimento informazione eccetera eccetera grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti